La presentazione dei quaderni dell'archivio storico di Oscesano non poteva mancare il Vescovo d'Ischia, al quale chiederei un commento su questa importante iniziativa. Non poteva mancare il Vescovo d'Ischia perché questo quaderno ha come tema fondamentale i Vescovi di questa nostra amata chiesa d'Ischia, Insulane Ecclesie Pastores, per cui mi sembra davvero importante essere qui e mi sembra importante questa iniziativa perché ci aiuta a fare un esercizio di memoria, a conoscere la nostra storia. Diceva un autore medievale, Bernardo Deschartes, che noi siamo nani sulle spalle dei giganti, allora dobbiamo sempre fare memoria del nostro passato per poter guardare in avanti con speranza e interpretare bene il futuro che ci è dinanzi. Con queste iniziative precedenti il seminario si apre molto alla cittadinanza, sembra più vivo. Noi vorremmo sempre di più che la Casa del Vescovo, il Palazzo della Curia si aprissero alla città e che davvero potessero diventare un po' la casa comune di tutta l'isola.